La missione non esattamente compiuta Ma la speranza è l'ultima a morire Comunque La solita carrellata Delle nostre preview fa capire Quanta carne al fuoco ci sia L'appuntamento è per domenica Si cucina poco a pranzo Perché c'è poco tempo per stare ai fornelli Bisogna stare sempre davanti al televisore Può succedere di tutto sin dal momento della partenza Eh sì Sono veramente queste corse In cui può succedere Se appena c'è una bava di vento Può succedere di tutto dal momento della partenza Siamo arrivati in conclusione di questa preview Del loro Giro delle Fiandre Il nostro sarà sul divano Con poche cose fatte Cucinando ai fornelli e qualche birra Magari Comunque Dicevo siamo arrivati in conclusione Di questo preview A me non resta che ricordarvi come sempre Che potete contattarci sulla nostra mail Che è cyclingchronicles.podcast.gmail.com Sul Nostro account Facebook e Instagram Che è cyclingchronicles E su Twitter come c underscore c underscore podcast Seconda monumento della stagione Seconda preview Su una monumento per la stagione Questa volta Faccio io per primo il mio nome Così non si dica poi Che io aspetto sempre Che dite voi Chi vince il Il Giro delle Fiandre Il mio favorito Per il Giro delle Fiandre 2019 È Zdenek Stibar Primo Chi vince secondo te Il Giro delle Fiandre? Zdenek Stibar Ah Sì sì Così erano quello di Zdenek Stibar E quello di Vot van Aert Questo significa che Vincenzo Nostro caro Vincenzo Che come sempre salutiamo Si prende esattamente Questo ce l'ha comunicato Vot van Aert Come favorito numero uno Per il Giro delle Fiandre Siamo arrivati in chiusura A me non resta che Ringraziarti per la compagnia Per la chiacchierata Salutarti E noi ci sentiamo già domenica Durante la corsa Figurati se non lo facciamo Però quegli ascoltatori Poi ci sentiremo Ci sentiremo Per le prossime puntate Ciao Primo Ciao Giacomo Saluto te Saluti i nostri ascoltatori Ultima cosa Siccome prima ho parlato Della partenza del Giro delle Fiandre Abbiamo su Facebook Una fotografia Scattata direttamente Ad Antwerp Ce la manda Giacomo Pettorali Che saluto con Con grande affetto I nostri ascoltatori Intanto anche Contribuiscono A regalarci queste perle E noi li ringraziamo Per questo Ciao a tutti Ci sentiamo dopo Fotografia con tanto Con tanto di countdown Alla partenza Dalla corsa Anche da parte mia Un saluto Un ringraziamento Noi ci sentiamo Settimana prossima Con le nostre valutazioni Sul Giro delle Fiandre E poi Tirate giusto Una boccata d'aria Perché arriva La Parigi Roubaix A presto Ciao ciao Bevete responsabilmente Grazie a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti Alla partenza